Fra i più grandi fotografi del secolo, Henri Cartier-Bresson è stato uno straordinario osservatore delle vicende del Novecento. Le sue immagini, conosciute in tutto il mondo, sono ispirate da un grande talento visuale e danno forma all'ambizione di catturare istanti irripetibili. Al Pan si inaugura oggi la mostra The Mind's Eye, con 54 fra i più significativi scatti di Cartier-Bresson fra gli anni 30 e gli anni 70. Sono molto felice che questa mostra apra in qualche modo anche il Maggio dei Monumenti, quindi oltre ad avere i turisti tanti, numerosissimi, che sono in città a disposizione del grande patrimonio storico e artistico di Napoli, hanno anche un'occasione nel nostro spazio più bello, quello del Pan. Credo una delle mostre più belle ed importanti che abbiamo ottenuto negli ultimi anni nella nostra città. Prigioniero di guerra nel 40, Cartier-Bresson riuscì a evadere nel 43. Nel 1945 fotografò la liberazione di Parigi. In questa spazio, ci sono tutte le icone le più conosciere del maestro che sono rassemblate. Il ha preso dei fotografi di guerra dopo la seconda guerra mondiale. Il era in Inde quando Gandhi ha segnatoato il fu. Quindi il ha preso dei fotografi di fuori di fuori di guerra, o piuttosto di incinerezza. Il fu fuori in 1956 in Russia, a un momento dove nessun fotografo di l'Ouest era è stato messo dietro il ruolo di ferro, quindi non ha solo fatto delle belle immagini, ma ha fatto anche delle immagini che hanno fatto scoprire il mondo e l'istoria a questi contemporanei. Promossa dal Comune di Napoli e sostenuta dall'associazione ACM col contributo di uno sponsor, un pastificio di Gragnano, la mostra è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson e con Magnum Photo. Questa sottrazione che è sempre stata la ricerca di Cartier-Bresson, lavoro anche sullo spiazzamento, a lui per esempio piaceva conservare le foto sbiadite oppure quelle sfocate, non correggeva i suoi scatti e sono molto critica su queste correzioni attuali, su queste immagini che ormai hanno troppi rimaneggiamenti. Ero in fila a Parigi, non sono riuscito a vederlo, Simone aveva fatto il regalo di portarlo qua a Napoli e quindi per me è un piacere immenso essere parte di questo progetto. Sono certo che a Napoli piacerà Bresson, a Bresson piaceva Napoli, piaceva l'Italia, ci sono tanti scatti a Napoli, ci sono tanti scatti in Sardegna, ci sono tanti scatti a Salerno e c'è sempre il discorso fondamentale, Napoli è una città di parole. Bresson invece diceva che la fotografia lui l'amava perché non parlava, parlava alla foto, non c'erano le parole, il disegno alla stessa maniera, non era troppe parole, era un tratto e quel tratto era quell'istante, quel momento. A Napoli forse a volte manca questa istantaneità, questa immediatezza del concetto, quindi l'essere diverso attrarrà i napoletani. La mostra potrà essere visitata fino al 28 luglio.